In realtà quando riuscito di casa non sono andati via vent'anni, perché vent'anni per me ci saranno sempre. Non puoi cancellare vent'anni. Sarebbe... Sarebbe stupido, perché? E' stata davvero una bella storia d'amore. Sono consapevole che le cose possono finire, può succedere, ma sono le modalità di come finiscono, di come si affrontano le cose. Mi aspettavo un marito che si sedesse davanti a me, nemmeno dicesse lui, o che si prendesse le sue responsabilità. La vostra coppia sarebbe in grado di superare un tradimento dell'uno o dell'altro? No. Nel dell'uno e dell'altro. Non era nei patti del nostro matrimonio, assolutamente. E lui lo sapeva bene. E ha cercato di proteggerlo, mentendo, fino alla fine. Però delle volte devi anche lasciarti sorprendere, accettare gli eventi e andare avanti, superarli. this isn't our first. Grazie.